3 forzi da questa parte 3 forzi da questa parte mandate dei rinforzi qua giù negativo coperti granata forza ci state sparando addosso per la morte giù 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 richiesto supporto breda ci serve aiuto giù giù richiesta supporto mitragliatrice richiesta supporto mitragliatrice giù 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 Richiesto supporto MG Richiesto supporto MG Richiesto supporto Breda Non molleremo in questa posizione Coperti granata Andiamo Con me andiamo Merda mi dispiace Sto finendo le munizioni Servono rinforzi Porta Guarda E due Fuoco di copertura Grazie Rinforzi! Da questa parte! Vai, hai chiesto! Ci stanno scorsando qua giù! Mandatevi i forzi qua giù! Rifarti! Da questa parte! C'è anche... O vero... 76? Neliczo ci sono ancora 3, c'è il 40 giugno... Sessono 3, c'è un atta. Sessono 6, c'è un atta. E un atta 3, c'è un atta. Il rio è un caro, subito qua giù! Con me, presto! Mandate dei rinforzi qua giù! Mandate un carro subito qua giù! Ripieghiamo! Tommy in avvicinamento! State coperti! Dai, dai, dai! Ci stanno massacrando qua giù! Thanks! Ci serve aiuto! Forza! Dai! Forza! Forza! Oh, 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 oh! Oh, oh! Stay where you are, cowards! Stay where you are, cowards! Stay where you are, cowards!